Filippo Mattarossi Ciao a tutti, sono Filippo Mattarossi, vengo da Forlì e ho 37 anni. Questa è la mia opera, è un ritratto di Pasolini eseguito a matita, solo e esclusivamente matita, e come testimonianza della mia arte ho portato un auricolare in quanto credo che la musica sia la forma d'arte migliore e sicuramente quella più congolente. Grazie.